Musica e danza spagnola al concerto da Madrid a Buenos Aires giovedì 25 luglio a Fortunago. A Cecima, venerdì 26 luglio, proseguono le serate del Festival Ultra Padum, con il concerto per fiati e percussioni e fai ballare la musica. Giunge alla sesta edizione la festa medievale di Varzi, in programma per sabato 27 e domenica 28 luglio. A San Nazaro de Burgondi, sabato 27 e domenica 28 luglio, la Proloco organizza la tradizionale Sagra degli Gnocchi. Sabato 27 luglio alle 18.45, benedizione dei veicoli a ruote sul sagrato della chiesa parrocchiale. A seguire, servizio ristorante dalle 19.30 e serata danzante con Lillo Baroni e la sua band. Domenica 28 luglio, musica in compagnia di Paolo e Valeria. Per info e prenotazioni 338 2069 525 oppure prolocosnz.gmail.com. Fino a domenica 28 luglio, presso i sotterrani del castello Visconteo di Abbiategrasso, sarà allestita la mostra Abbiate Arte 2019. Domenica 28 luglio a Broni, concerto sinfonico Millumino d'immenso, a cura dell'Orchestra Sinfonica Accademica di Milano. Da venerdì 26 a martedì 30 luglio a Dorno, un ricco programma di festeggiamenti per Sant'Anna 2019 in collaborazione coi commercianti. Vi segnaliamo venerdì 26 in salata di riso e melone con crudo musica live di Wally The Voice. Sabato 27 luglio a Pericena con birra e salamelle e live show Giulia, a seguire Ale e Mirko con uccelli del Ticino e passere del Canarazzo. Domenica 28 festa della pizza e serata di musica con opera terza Pu Tribute. Lunedì 29 si balla con Mille Una Notte. Martedì 30 si chiude con il ritmo della Sherry Band. È tutto, per le vostre segnalazioni chiamate il numero 0381 09 25 25 oppure mandate una mail a pubblicitacchiocciolaterepavia.tv